amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati parlando di piante acquatiche oggi andremo a girare un video molto particolare non parliamo di ninfea non parliamo di fior di lotto ma parliamo di una pianta molto particolare e a presentarcela sarà un grande esperto ovvero gianni ricci dieta beta andiamo a scoprirla insieme a lui eccola qua ma che pianta è questa gianni è chiamata genericamente ananas d'acqua è stupenda il suo nome scientifico è stratiotes aloides e fate i ciuffi infatti si chiama ananas d'acqua perché il ciuffo ricorda un po quello dell'ananas e ha le spine esattamente come le foglie di questo ciuffo dell'ananas se ci si avvicina si vedono proprio lungo le foglie queste spine estremamente appuntite è una pianta curiosa perché metà dell'anno lo passa galleggiando e l'altra metà dell'anno lo passa sul fondo d'inverno quando lei ha freddo va sul fondo e quindi si allontana dalla superficie dove ghiacciando potrebbe morire e come fa si comporta un po come il palombaro o come il sommozzatore all'interno tra le cellule dei tessuti di queste foglie ci sono degli spazi cavi l'inverno lei li svuota completamente riempiendoli d'acqua e diventando quindi pesante e sprofondando allontanandosi dal ghiaccio superficiale dorme tutto l'inverno dopodiché in primavera con i primi tepori la temperatura dell'acqua aumenta e lei al posto dell'acqua negli spazi intracellulari inizia a pompare dell'aria e quindi diventa leggera esattamente come il giacchette di un sommozzatore e lentamente 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 sale uscendo fuori dall'acqua con questi cespuglietti che sono nati durante l'inverno questi qui sono nati all'inizio della primavera lei si riproduce gettando questi rametti stoloniferi e il suo germoglio in questo caso questa pianta ne ha fatti ben quattro in questo caso dopo se si dividono sono nuove piante sono nuove piante rimane galleggiante per tutta la stagione primaverina ed estiva e fiorisce anche facendo un fiorellino bianco molto profumato con cinque petali continua a crescere sempre dal centro formando poi questo cespuglio che viene molto alto e ricordando proprio il ciuffo dell'ananas ecco perché chiamato ciuffo d'ananas o ananas d'acqua a ottobre con i primi freddi notturni lei inizia il processo di svuotamento e di riempimento come se una nave riempisse di zavorra di acqua come si dice le cisterne per poter aumentare la galleggiabilità e inizia a sprofondare andando in letale bene guardate con quanto fa con quanta passione gianni ricci ci ha raccontato come questa pianta quanto strano possiamo chiamarla così no al quanto particolare si comporta in un modo chiamiamolo anche un po bizzarro ricordiamoci di ananas d'acqua alessandro gianni ricci l'ananas d'acqua che qui nelle sue mani vi salutano vi invitano a mettere un bel pollice all'insù ed iscrivetevi al nostro canale ciao alla prossima